Non si chiude! Treofan! Treofan! Non si chiude! Sciopero, incontri istituzionali ed anche, semmai, l'occupazione della Treofan battipaglia. Questi i provvedimenti che potrebbero essere percorsi dei lavoratori che si sono visti licenziati dalla Gindal. Questa mattina rinviato il convegno Io mi rifiuto e tu l'impegno, proprio per solidarietà ai lavoratori della Treofan accorsi in comune per protestare. La sindaca Cecilia Francese ed il vicepresidente della Regione e Fulvio Bonavitacola hanno redatto un documento nel quale si impegnano a sostenere con azioni concrete, anche rivolte al Mise e dal Governo, i lavoratori, affinché si possa bloccare il provvedimento di licenziamento. Intanto, Vincenzo Inverso chiede la sospensione immediata, tasse e tributi comunali per tutte le famiglie dei lavoratori coinvolti, come segnale concreto da parte dell'attuale amministrazione. Non è la soluzione del problema, ma un piccolo segnale reale, un atto concreto dopo tante chiacchiere. Invece, lunedì mattina, la stessa sindaca con i lavoratori ha annunciato di recarsi in prefettura per discutere di tutta la vicenda con il prefetto e cercare di incidere su questa decisione che di fatto arrega danni ingenti a circa 300 famiglie, tra lavoratori ed indotto occupazionale. Lunedì con il prefetto, prossimi appuntamenti, pensiamo a una mobilitazione, l'avevamo già detta in precedenza, ma soprattutto pensiamo di fare una giornata di mobilizzazione con i segretari nazionali di tutti i sindacati. E poi vorrei dire, anche questa elezione del nuovo segretario della CGL, che ha messo un po' in fervore, io penso che i sindacati debbano riappropriarsi delle piazze come una volta. Bisognerebbe far sentire la voce dei lavoratori perché assolutamente non ci si sente protetti, non è possibile questo, quindi io penso che sarà sicuramente una giornata importante di richiamo nazionale qui in zona, qui nella Piana del Sè, perché da Treofan si parte, ma sono messi in discussione ovviamente tutto quello che è il polo industriale di Battipaglia. Pronti anche ad occupare la fabbrica se necessario? Sì, pronti anche ad occupare la fabbrica. Sono stata ieri con i ragazzi, siamo stati in fabbrica anche stamattina e siamo determinati a fare delle azioni di forza. Il sindaco ovviamente sarà con i ragazzi perché non è una difesa solo della Treofan, ma è una difesa del territorio e anzi invito tutti i cittadini di Battipaglia a prendere coscienza di queste cose. Oggi è toccato la Treofan, domani a chi tocca. Il problema è che non chiude. Non chiude una ditta che sta in crisi, che non ha ordini, che è piena di debiti, per cui lì ti fai una croce. Qui chiude una ditta sana, una ditta che chiude in attivo. Allora se si permettono queste manovre finanziarie e noi qui non siamo più protetti, quindi cittadini di Battipaglia, ma cittadini di tutta la Piana del Sele, cittadini dell'Italia intera. Cioè questo dovrebbe essere un momento di riflessione e si riparte da qui per dire noi ci siamo e non vogliamo più queste manovre sporche. Ma noi abbiamo già in concreto, non solo solidarizzato, perché questo era il minimo, ma previsto l'attività di questa azienda in un contratto di sviluppo destinando risorse importanti e per quello che riguarda la parte regionale mi pare che abbiamo fatto quanto era nelle nostre possibilità. L'azienda non si è mostrata molto sensibile al dialogo, evidentemente il governo nazionale non è riuscito a determinare un mutamento di atteggiamento. Naturalmente noi non possiamo rassegnarci, questi lavoratori devono essere tutelati, il posto di lavoro va difeso in tutti i modi e con tutte le possibilità. Eravamo tutti preoccupati, perché è indiscutibile che per quello che abbiamo visto accadere in questi due mesi era strano non avere purtroppo un epilogo di questo tipo, nel senso che quello che sottolineiamo è che il Ministero in questa fase ha fatto una parte assolutamente neutra, nel senso che loro hanno disertato gli appuntamenti, quando si sono presentati hanno detto ben poco, oggi è chiaro che io come rappresentante degli imprenditori devo capire anche le esigenze delle imprese, però per me il territorio è prioritario. E questa iniziativa, in questo modo, dell'impresa indiana non è condivisibile. Non è condivisibile, io come sapete ho avuto un contatto con l'ambasciata indiana, è programmato un appuntamento venerdì prossimo, che per la verità l'ambasciatrice si è resa immediatamente disponibile. È ovvio che probabilmente quello che pensavo di andare a dire dovrò dire delle cose diverse, ma cercherò di far capire che certi atteggiamenti non sono graditi da investitori stranieri quando si arriva sui territori e si fa così. Questo lo dovrebbero forse capire un po' meglio i nostri governanti che amano molto parlare e poco fare fatti.